storia non può dire c'è 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 e pensavo ok cambiamo le parole di che vogliamo parlare? In quel tempo molti, anche tra di voi l'ho visto perché ce ne sono alcuni sul tavolo si apprestavano a fare una fila chilometrica dinanzi ad un Apple Store per acquistare un oggetto di culto dell'elettronica, il cosiddetto iPhone come un botino e allora mi riferisco a chi te l'ha regalato l'iPhone sapete perché su cosa si chiama iPhone 5? perché chi se l'ha accattato è 5 no a lei l'hanno regalato e no ma scusami devo dire la verità guarda mi sono trovato in una scena simile perché proprio il giorno dopo che era uscito mio cugino che un mese prima si era accattato all'iPhone 4, ovvero mi sta toccando perché c'è un manganino e tu fai te questo c'è ha detto ma rimane una cosa c'è tu un mese fa ti cattato l'iPhone 4 ti spisa 800 euro mamma perché ne avevi spendrato i 900 per taccato 5 lui mi ha guardato e mi ha detto eh vabbè però tu non capisci papà dentro ah ci te fammi capire tu ma l'ha rata mano e ti chiedi e beh c'è capito e beh non ti sei accorto che questo qui pesa almeno 84 grammi in meno ah ipo mi hai risfruttato che tu quando rispondi al telefono con 4 ti senti a 4 dipendo in franti guarda no perché poi è realissimo guarda mi hai detto ma dai smettila ma non vedi che si vede ad occhio nudo che questo qua è 5 è molto più lungo no detto da te va bene il problema è che io pensavo papà la sera meno figlio scema è puricchio ad ogni modo ho detto vabbè dobbiamo parlare dell'iPhone potremmo dire che è finalmente puri mangiaccharta dell'iPhone stiamo aspettando stipendi e non regalano accessi l'ho offerto che non è la modafone e non mi scarico gratis tutto l'applicazione mando i messaggi a fotografia e faccio i video che vada voglio un amico Facebook, Twitter ma non è come a web e chiama Gustavo che è mostro Brasile già non lo vedi che dimmi la sigla ma ho fatto un cantante e mi ha fatto una balla ma dicevamo se di che cosa è Gustavo Gustavo lì Gustavo lì meno a me sta canzone pari a pelle mi ha brutta coppia la carattela mentre canta sto ballata io mi faccio da telefonare mando i messaggi che fotografia e faccio i video che vada voglio un amico Facebook, Twitter ma non è come a web chiama Gustavo che è mostro Brasile tra i nomi che credi e me la sigla ma niente che mi saffo cantando ma mi ha fatto sempre una balla tanto dove sono le voci Gustavo lì meno a me Gustavo lì meno a me Gustavo lì meno a me ma come siete belli mi allorate ci facciamo un ritornello insieme vai chiede 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 gustavo lì meno a me gustavo lì meno a me gustavo lì meno a me e provi a non mi